Adesso le notizie che arrivano dalle Olimpiadi. Il duo azzurro composto da Samuele Cottafava e dall'ortonese Paolo Nicolai ha conquistato la sua prima vittoria nel torneo olimpico di beach volley imponendosi in due set 21-19 e 21-18 sulla coppia australiana Nikolaiidis Karaker in 41 minuti nella sfida valida per il gruppo A. Il primo agosto si giocherà l'ultima gara del girone per gli azzurri che sfideranno gli svedesi Agman Elwig vice campioni mondiali e numeri uno del ranking mondiale. Per il torneo olimpico di pallanotto maschile ricordiamo l'ottima vittoria contro gli Stati Uniti ora il settebello capitanato dal pescarese Francesco Di Fulvio tornerà domani in vasca contro la Croazia con inizio alle ore 12.05.